Proviamo a lavorare su quello che non è andato, quindi la comunicazione, mettendo in piano comunque magari un piano di marketing nazionale e investendo soprattutto su quello che poi è la cosa che oggi va di più, che è la parte di marketing e comunicazione. Tanto secondo me oggi è inutile aiutare le aziende, è molto più importante riportare velocemente i turisti in Italia. Questo l'appello lanciato dall'assessore al turismo del comune di Arezzo, Marcello Comanducci, al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, per far fronte così ai danni subiti da imprese e comparto turistico a seguito dell'allarme coronavirus. Il concetto del ritardo sulle tasse sono cose secondo me anche un po' vecchie, perché oggi bisogna rendersi conto che ci sono delle aziende che stanno perdendo l'80 al 90% del fatturato, quindi quello che gli interessa prima di tutto è ripartire. Quindi a mio avviso abbiamo dato un messaggio comunicativo molto sbagliato soprattutto all'estero e quindi questo ha provocato disdette non solo per i mesi in corso ma anche per i mesi estivi, quindi il rischio di perdere l'intera stagione è alto. Quale messaggio andrebbe veicolato all'estero? Sicuramente che l'Italia è comunque un paese al di là del fatto bellissimo, quindi secondo me questo tipo di azioni andrebbero fatte a prescindere, indipendentemente dal coronavirus. Però nel momento in cui l'epidemia passerà, perché comunque passerà, ci saranno dei mesi comunque di vuoto, perché non è pensabile che oggi le persone che disdicono poi magari ripensano immediatamente a tornare. Quindi quello che noi dobbiamo fare è immediatamente alla fine dell'epidemia lanciare comunque una campagna turistica, magari sfruttando i nostri registri più famosi, gli influencer o gente che lavora sul digitale per fare delle campagne innovative e moderne e poi lanciarle su tutte le televisioni e media internazionali. Oggi le aziende vivono molto in difficoltà già con il turismo in crescita, figuriamo con un blocco del 70-80% delle presenze. Il rischio veramente è di tante chiusure e di tanta gente che si ritrova poi disoccupata, perché non so se ci si farà a reggere un colpo del genere se non pensiamo da subito a recuperarlo già per la stagione in corso e non per i prossimi anni.